I dieci volumi finalisti della dodicesima edizione del Premio SILA 49 sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Cosenza nella sede della Fondazione Premio SILA. Ad incontrare i giornalisti sono stati il presidente della Fondazione Enzo Paolini, la direttrice Gemma Cestari e i due giurati Valerio Magrelli ed Emanuele Trevi. I dieci libri scelti dalla giuria sono Un Paese Felice di Carmine Abbate, Grande Meraviglia di Viola Ardone, Poverina di Chiara Galeazzi, Quasi niente sbagliato di Greta Pavan, La bella confusione di Francesco Piccolo, La vita è breve eccetera di Veronica Raimo, Jazz Café di Raffaele Simone, Il fuoco invisibile di Daniele Rielli, L'imperatore delle nuvole di Pier Paolo Vettori e Una minima infelicità di Carmen Verde. Il nostro filo conduttore, ha detto il presidente Paolini, è l'Italia che vorremmo e che viene narrata attraverso i romanzi, attraverso le storie, le idee, le vite che ci sono in quelle pagine, ma anche attraverso la saggistica. Una decina ha affermato da parte sua la direttrice Cestari, di cui siamo molto soddisfatti e che tiene insieme tante voci interessanti dell'Italia. Dieci libri straordinari che arrivano dopo il lavoro importante alla giuria. L'annuncio della rosa dei finalisti è stato affermato nel corso della conferenza stampa, lascia adesso il posto agli incontri con gli autori che nei prossimi giorni presenteranno al pubblico del premio i loro libri. Poi toccherà alla giuria, in collaborazione col comitato dei lettori, a ridurre a cinque i libri scelti. Da quest'ultima selezione si arriverà il vincitore, che sarà premiato nel corso di una manifestazione in programma a Cosenza dal 14 al 16 giugno.